E' corsa all'ultimo regalo. I napoletani e anche tanti turisti che stanno passando il periodo natalizio all'ombra del Vesuvio stanno affollando le vie dello shopping per comprare gli ultimi doni. Anche quest'anno, ad ascoltare i passanti, è un Natale a ribasso. Si cerca di non spendere tanto e di comprare cose di reale utilità ascoltiamo. Abbigliamento, scarpe, accessori, ruba che si può sfruttare durante tutto l'anno. Anche con questa crisi che ci sta cerchiamo sempre di accontentare i nostri figli soprattutto e spero che per questo Natale augura a tutto questo popolo napoletano un fine che è stato quest'anno più critico dell'anno scorso. Io sono cattivo, cidioso, non voglio regali e non voglio farne a nessuno. Vabbè, indumenti sicuramente che crescono di continuo e poi sicuramente un po' di serenità, perché c'è tanto bisogno secondo me. Forse sarebbe il caso di pensare a dei regali un po' più spirituali, visto il periodo che stiamo vivendo. Però ho pure regali di ordine pratico, utili.